di Firenze, telefono privato, ti trovo le parole, allora ci sentiamo. Se volete l'intervallo musicale, il prof si aveva pensato a un'idea per l'intervallo musicale. Ecco, senti, senti, senti. La riconosci? Solo i vecchi l'hanno riconosciuto per ora, ma fra un po' si riconosce, eh? Ti canta? Che dà questo? Non mi piace. Claudio Villa? Eh, questo. Senti. Sì, è. Senti, senti, senti ora, eh? Per cui si è tutti un sordino, ringer destino a far te tornare. Senti un po'? E mentre il marco fa che riportano te, la tua canzone in fondo è vera. Ora è il carattere da parte. Facciamoci, facciamoci. Una coppa non c'è più! Senti un po' più! Senti un po' più! Senti un po' più! E' sì che non c'è più! E' essuto! E' piaciuto? E' piaciuto l'intervallo musicale? eh sì 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 torniamo sempre grazie torniamo sempre torniamo e andiamo